SQUADRA, POSSIAMO ATTACCARE I NEMICOS! CACHINO! Siamo portati avanti! Bersaglio eliminato! Va vivo! CACHINO, andata! Volpo fulminante pronto! Vi hanno distrutto l'infiltrazione dattica. Anceledata la pressione del genio. Andiamo, andiamo! Confermati! UAV in attesa di ordini. Volpo fulminante in attesa di ordinate. Begondoli in attesa di ordinate. No, scuola te!